Oggi ci troviamo al Teatro dell'Opera del Casinò con Giancarlo De Lorenzo, il direttore dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, che è qui per un'occasione speciale. Oggi sarà premiato dal Comune di Sanremo con un premio che giunge inaspettato? Assolutamente sì, io sono molto emozionato oggi, molto toccato. Io quando l'ho saputo, mi ricordo che stavo studiando, ho finito di studiare perché non riuscivo più a capire che cosa stesse succedendo, perché mi sembra, sono sicuro, che questa sia una cosa molto sentita da parte della città ed è un bellissimo riconoscimento. Abbiamo lavorato molto, tutti quanti, perché è un riconoscimento per me, ma voglio pensare che sia un riconoscimento anche per la Fondazione, per tutti coloro che hanno lavorato con impegno e con coscienza e che mi hanno aiutato. Perché, ripeto, io voglio condividere questo premio con tutti quelli che mi sono stati accanti in questi dieci anni. E quindi, bene, bene. Avete un amico in più? Un amico in più. Oggi ci saranno in sala anche alcuni dei suoi musicisti e tutti tifano per il maestro Giancarlo De Lorenzo. Ripeto, io salgo sul palco sempre, è il mio lavoro, ma l'emozione di oggi l'ho provata poche volte. Bene, ok, grazie mille. Grazie a voi. Grazie a voi.